Sempre più frequente la presenza di incidenti dovuti ai cinghiali che scorrazzano un po' per le campagne e anche in prossimità della città. Questo è anche un allarme che lanciate voi di Coldiretti? Sì, è l'allarme che lanciamo noi, è un allarme più grande, più importante, che stiamo lanciando ormai da tanto tempo rispetto al fatto che il problema principale purtroppo è che si fa fatica a cominciare anche a coltivare ormai perché i danni che vengono provocati all'agricoltura sono addirittura iniziali, immediati. Io semino e poi il cinghiale già in questa fase fa dei danni. Purtroppo essendo tantissimi c'è un ulteriore problema che è quello della sicurezza pubblica perché oramai nessuno è più sicuro di attraversare o percorrere una strada, anche una strada statale, nelle nostre vallate perché oramai il rischio di avere un cinghiale che attraversa e che fa fare un incidente è altissimo. Il rischio soprattutto quando fa buio, di notte, dove praticamente gli animali sono anche più liberi, data anche il minor traffico e la circolazione. Sì sì certo il cinghiale non è un animale notturno però ovviamente la fauna selvatica si muove prevalentemente nelle ore di buio perché ovviamente è meno disturbata eccetera ma questo diventa un ulteriore pericolo perché ovviamente con l'illuminazione dei fari con la nebbia che pian piano comincerà ad arrivare perché siamo in autunno inoltrato il pericolo cresce ovviamente. Come mai questo fenomeno è così in crescita? È in crescita perché è in esagerata crescita la presenza di questo animale che va arginata con logiche assolutamente straordinarie non siamo più in grado di gestire questo eccesso di presenza di ungulati in modo particolare di cinghiali sul territorio con le regole normali che ci vengono dalle leggi regionali e dalle leggi nazionali. Serve un intervento straordinario. È diventato virale in questi giorni un video che vede due cinghiali che scorrassano praticamente a Cortona in centro ma ad Arezzo ce n'è altrettanto, Roma è un'altra delle città in cui ogni tanto si vedono questi video in giro purtroppo c'è una presenza esagerata di animali che non hanno più neanche paura dell'uomo si infilano e si inseriscono nei giardini dei condomini quindi c'è veramente bisogno di un'attenzione particolare da parte di tutti, regione e Stato. Il problema è anche il risarcimento del danno perché provare che sia stato un cinghiale soprattutto anche con un incidente stradale non è semplice. C'è oramai una sentenza della Corte di Cassazione che fa un'operazione importante da questo punto di vista secondo la parte giuridica che riguarda i danni sulla strada perché inverte l'onere della prova cioè adesso la Cassazione ci dice che è la regione che deve dimostrare che ha fatto tutto quanto possibile per evitare l'incidente se non ne risponde personalmente. Mentre per i danni agricoli? Per i danni agricoli c'è come tutti sanno questa delega alla ATC che deve verificare, controllare e poi risarcire i danni con risorse che però sono assolutamente insufficienti rispetto anche alla crescita dei danni che sono arrivati e io credo che la regione dovrà seriamente prendere in considerazione delle modifiche anche alla capacità di sostenere questo tipo di problema. Grazie a tutti. Grazie.